wow ricordatevi sempre che qui al Taj l'ospite è sacro a lavoro sembra che ci sia stato un attentato alla stazione ferroviaria madame questo è il Taj Hotel siamo al sicuro qui sicurezza immediatamente all'ingresso fate rientrare volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? visitate il link nell'info box e commentate sotto al video ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per ogni notizia sul cinema, sulle serie tv per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV sono gratuite ciao ciao Grazie a tutti.